Grande fratello, il primo messaggio di Iago Garcia dopo l'eliminazione. Tra Amanda, Iago e Maria Vittoria è stato proprio l'attore iberico a dover uscire dai giochi. Noto in Italia per aver recitato in Il Segreto e Una Vita, dopo la vittoria ballando con le stelle Alfonso Signorini lo ha voluto nel cast. Purtroppo per lui e i suoi fan l'avventura nel reality è terminata ieri, lunedì 4 novembre. Nella giornata di oggi, martedì 5 novembre, Iago Garcia ha pubblicato il primo contenuto social dopo l'esperienza al Grande Fratello. Sebbene molti siano rimasti stupiti della sua eliminazione, l'attore ha affermato che un po' se lo aspettava. Iago ha voluto inviare un messaggio di gratitudine per la possibilità che gli è stata data mentre si trovava in aeroporto in attesa di prendere l'aereo per Madrid. Poi, però, ha inviato un altro messaggio, stavolta dedicato ai suoi connazionali che stanno vivendo giorni difficilissimi. In Italia molti non hanno preso bene l'eliminazione di Iago, che ha colpito il pubblico per la sua schiettezza e serietà. Possiamo movimentarci a fare rientrare Iago con un televoto flash. Cari autori, con Iago si è fatto fuori il vero antagonista di Lorenzo. Poteva dare ancora tanto. Vi inventate tante cose, fate un ripescaggio. Iago, invece, ha parlato così, volevo dirvi semplicemente che sono molto felice della mia partecipazione al Grande Fratello, del vostro amore e affetto che ho sentito tutti i giorni. Non mi frega più di tanto della mia uscita. Credo sia stato il destino. Non cambierei niente di quello che ho detto o fatto. L'attore ha ringraziato Alfonso Signorini, le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, l'inviata Rebecca Staffelli e tutto lo staff. Ai suoi follower, poi, ha detto, grazie a voi che siete delle persone meravigliose, che vi avete guadagnato il mio affetto. In un altro video, mentre si trovava in aereo, Iago ha rivolto un pensiero ai suoi connazionali alle prese con la terrificante alluvione che ha colpito Valencia, provocando almeno 222 morti, molto dispiaciuto per quello che è successo a Valencia. Veramente commosso, perché ho molti amici là. Quando arrivo chiamerò tutti loro per vedere se le famiglie stanno bene. Questo mi fa pensare all'importanza dell'attimo. Dobbiamo vivere il giorno, viverlo al massimo. E voi cosa ne pensate?